Settimana scorsa mi trovavo all'AppleStore per vedere più da vicino questi nuovi MacBook Pro. Non è che non li avessi già visti prima, però questa volta l'ho fatto con l'occhio da compratore, piuttosto che con l'occhio da curioso. Ovviamente non ho comprato nulla, almeno per il momento. Che cosa vuol dire con occhi da compratore? Significa semplicemente che se tu lo compri, vuoi essere certo che puoi fare le stesse cose che facevi prima ma meglio. Quindi la prima cosa che faccio è vedere un video in 4K per vedere se la gamma di colori è nidida un po' come dicono loro e in effetti devo dire che lo era. Ho pure guardato uno dei miei video e ho capito che ho molto da imparare in termini dei color correction che è un argomento di cui magari parlerò un'altra volta. Dunque successivamente la seconda cosa che ho fatto è quella di comparare i diversi modelli di questi M2 nella fattispecie il modello M2 Pro è quello Max. E lì ho visto cose che da esperto mi hanno lasciato un po' perplesso e figuriamoci una persona che magari è meno esperta secondo me non avrebbe capito nulla. 4 core così, 4 core di là, 10 core GPU, Neural Engine, RAM unificata e io capisco che voi dell'Apple dovete scrivere queste cose per il marketing perché così tutti quei clienti che ne capiscono un c***o possono dire loro amici guarda il mio Mac ha 16 giga di RAM unificata il tuo non ce l'ha gne 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 gne. Ora, nonostante io abbia diversi dispositivi Apple io non mi definisco un fanatico del brand. Sì, certo li uso, fanno bene il lavoro per quello che li uso io ma tuttavia se quel giorno io avesse avuto quei 2000 euro e più tra l'altro in contanti io onestamente non avrei preso nulla finché non avesse capito ognuna di quelle cose che loro avevano nelle loro tavole di comparazione o come le chiamano specifiche, specifiche li chiamano ma le avessi capito le specifiche alla perfezione. E lo sapete come funziona un Apple Store? quando i dipendenti Apple fiutano che voi avete delle perplessità si avvicinano dicendo ti serve aiuto? In effetti avevo due domande da fare ma queste le vediamo dopo e quindi iniziamo cosa c'è dentro questi processori M2? Lo vediamo dopo la sigla. Benvenuti e ben ritornati qui in questo nuovo video di FK Android Hood io sono Valerio e oggi parliamo di questi processori M2 ma prima di cominciare vi vorrei ricordare come al solito se siete nuovi o di ritorno di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina per essere sempre aggiornati con gli altri contenuti che porto su questo canale e inoltre se volete seguitemi su Instagram qua a schermo sicuramente state vedendo il mio tag e quindi basta con queste ciance e iniziamo a vedere cosa c'è dentro questi processori M2 quindi prima di iniziare il termine processore è erato e io l'ho utilizzato appunto per enfatizzare questo problema si tratta infatti di un sistema on chip o più semplicemente un SOC un sistema on chip è un circuito integrato che contiene al suo interno tanta roba contiene anche il processore ma non solo infatti noi possiamo suddividere un SOC M2 sostanzialmente in cinque parti la prima parte è composta da questi coro ad alte prestazioni chiamati Avalance invece la seconda parte è formata da altri coro che sono ottimizzati per essere più efficienti dal punto di vista energetico che si chiamano Blizzard una terza parte è costituita dalla GPU che ha un certo numero di coro una quarta parte riguarda la memoria RAM che va a qualcosa come 6400 megatrasferi a secondo e se non sapete cos'è un megatrasferi a secondo andate a ripescare questo video perché ne avevo parlato in maniera molto approfondita nella fattispecie la RAM che si trova all'interno di questi M2 si chiama LP di DR5 LP significa semplicemente low power che vuol dire a basso consumo di DR5 significa che semplicemente abbiamo una DDR5 e si chiama unificata semplicemente perché si trova all'interno dello stesso sistema on chip e viene vista da tutti i coro infine l'ultima parte è quello che ospita l'accelerazione hardware per i modelli di intelligenza artificiale che si chiama neural engine si ma lo sono ricordato ora questo neural engine non è che ci sta là da ieri ma si trovava già nei socco a 11 dal 2017 montati in iPhone 8 8 Plus e anche iPhone X lo scopo di questo acceleratore hardware è ben spiegato vi siete mai chiesti come fa un iPhone a sbloccarsi guardando la vostra faccia certo voi potete dire che lo fa perché ha un processore potente sì effettivamente è così ma tuttavia lo sfrutta un hardware dedicato che fa appunto questa cosa ma il neural engine non si occupa solamente di sbloccare il nostro iPhone con la faccia nostra quando ci svegliamo al mattino tipo zombie questo acceleratore hardware può essere utilizzato per qualsiasi applicazione che usi machine learning e in particolare quello che usa il deep learning viene utilizzato da Siri per interpretare la nostra voce ma anche l'applicazione app quando noi dobbiamo cercare una determinata immagine tuttavia l'accesso a questo acceleratore hardware non era disponibile a tutti gli sviluppatori poi Apple si è passata la mano sulla coscienza e ha sviluppato un API che permette di utilizzare questo neural engine e questa API si chiama Core ML di cui se ne volete approfondire vi ho lasciato un link qui sotto in descrizione in un M2 ci sono 16 core per questo neural engine capace di effettuare decine di biliardi di operazioni al secondo questi stock hanno anche dell'altro tra le altre cose ho letto che hanno questo decodere e encodere video ProRes che permette di decodificare decine di video in 8K contemporaneamente è proprio questo che io volevo arrivare vi ricordate che all'inizio del video vi avevo detto che il tizio si era avvicinato a me benissimo quali erano le domande che ho chiesto sostanzialmente erano due la prima domanda che ho fatto è Adobe Premiere supporta in maniera nativa tutte queste c***e che ha questo SoC M2 ora io so che ovviamente Adobe Premiere gira su questi M2 ma ne sfrutterà 100% le sue potenzialità e io ingenuamente mi aspettavo una risposta semplice sì o no e voi pensate che l'abbia ricevuta più o meno ma dopo ovviamente 5 minuti di super c***o che possiamo riassumere nel seguente modo non usai questo Mac avventura che è il software di base con cui ti viene fornito ma dai il sistema on chip M2 è progettato per garantirti il massimo delle prestazioni ma dai io pensavo che andasse dentro di proposito Adobe Premiere è famoso per essere pienamente funzionanti con i nostri sistemi ok in passato ma con i nuovi M2 cioè c***o dimmi qualcosa che non c***o a questo punto lui va su questo sito mi fa vedere che effettivamente sembra che Adobe Premiere sia pienamente compatibile cosa che a quanto pare potrei poter fare benissimo da casa mia ma stavo in un centro commerciale con una ragazza e ho preferito farmi trattare da un c***o da un dipendente Apple piuttosto che scassarmi con i c***o la zara la mia seconda domanda è stata se gli Apple Store prendono in permola i vecchi Mac e a quanto pare lo fanno quindi mi danno anche qualche soldino per il mio vecchio Mac bellissimo pinguini io prima di concludere io vi consiglio che la prossima volta che voi andate in un Apple Store di dodarvi di una buona dose di pazienza perché la mia l'ho persa anche se ho mantenuto la calma e inoltre scrivetemi nei commenti se lasciate il fatto che c'è bisogno di un rene per comprare un M2 ne comprereste uno cioè comprereste un MacBook Pro M2 scrivetemi nei commenti sia un sì e un no ma anche motivate la vostra risposta e quindi io vi ringrazio ancora una volta per la vostra attenzione vi rimando agli altri video di FK Android Food che porto su questo canale e quindi ci vediamo alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.